ghiaccio sulle strade mattinata di incidenti e code più disoccupati e meno contratti 2020 nero del centro per l'impiego saldi in affanno i commercianti del centro non recuperano le perdite giorno della memoria la regione promuove l'itinerario ebraico marchigiano una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre per rossini news il nostro telegiornale della provincia di pesaro urbino e della regione marche con tutte le principali notizie di questo martedì 26 gennaio e apriamo il nostro tg parlando del brusco calo di temperature che questa mattina ha provocato gelate sulle strade e purtroppo diversi incidenti stradali anche nella città di pesaro ci troviamo in via gagari non lontano dalla rotatoria che conduce al rossini center sono da poco trascorse le nove di mattina e si è verificato da diversi minuti un incidente stradale che ha visto una vettura opel corsa a finire fuori strada anche in considerazione della strada ghiacciata in questo preciso tratto infatti in questa mattinata del 26 gennaio si è registrato un brusco calo delle temperature diverse gelate in tutta l'interquartiere in diversi tratti stradali della nostra provincia e che hanno portato a diversi problemi dalle code ma ad anche ad altri incidenti i guai sulle strade sono cominciati di buon'ora alle 5 un quarto il primo intervento della polizia locale in strada dei cacciatori alle 5 tre quarti si è verificato un altro sinistro sempre derivato dalle strade ghiacciate danni alle automobili ma solo con feriti lievi alle 6 di mattina è scattato il piano neve con i mezzi spargisale intervenuti a limitare i danni danni che si sono tradotti per lo più in auto fuori strada e in scooter rovinati a terra sull'asfalto scivoloso episodi che si sono verificati anche sulla monte labattese a cattabrighe villa fastigi zona 5 torri e strada del monte feltro il cosiddetto piano neve non è stato innescato prima delle 6 in quanto viene calibrato sui bollettini della protezione civile che non aveva segnalato all'erta ghiaccio a notte inoltrata c'è invece stata una precipitazione di pioggia non prevista che si è trasformata in una improvvisa gelata sulle strade con il passare delle ore mattutine e l'aumentare delle macchine in transito per il via le attività lavorative si sono registrati dunque diversi incolonnamenti di auto rallentate dal procedere a passo duomo per l'asfalto scivoloso rallentamenti che si sono trasformati in ingorghi nei tratti di interquartieri ad una sola corsia e sono giornate fredde queste ma quanto pare sarà un 2021 piuttosto gradevole dal punto di vista meteorologico e anche poco piovoso questo perlomeno è quello che hanno detto le cipolle di urbania nel loro tradizionale responso di fine gennaio ci attende un inverno rigido ma senza neve una primavera è un'estate mite gradevole e con poche piogge precipitazioni che non aumenteranno nemmeno in autunno questo il responso delle cipolle di urbania che ogni anno nella notte di san paolo fra il 24 e 25 gennaio rivelano che tempo farà nei restanti mesi dell'anno la tecnica della lettura degli spicchi di cipolla è da anni maneggiata da emanuela forlini di urbania insegnante depositare di questa tradizione che come puntualizzato sempre dalla stessa forlini non ha nulla di scientifico i 12 spicchi di cipolla bianca esposti nella notte fra il 24 e il 25 gennaio hanno questa volta limitato al minimo lo scioglimento di sale un'indicazione tradotta in una scarsità di piogge che accompagnerà il 2021 della provincia un anno che continuerà con un febbraio molto freddo ma scarso di neve un marzo ventoso e un aprile mite dopodiché da maggio a settembre una lunghissima bella stagione con poche piogge circoscritte fra inizio giugno e fine settembre piogge che non si intensificheranno in autunno tempo buono ad ottobre nebbie frequenti a novembre per concludere con un dicembre più gelido del solito ed ora la cronaca perché sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di andrea bindi 48enne personal trainer originario di la spezia ma da anni residente nel nostro territorio in quanto sposato con una pesarese bindi è stato trovato senza vita domenica nel suo letto nella casa di ronco sambaccio dopo che l'ex compagna aveva allertato i vigili del fuoco non sentendolo da giorni l'autopsia chiarirà se il decesso avvenuto per patologie congenite o se c'è qualche correlazione col digiuno prolungato che il personal trainer salutiste convinto vegano portava avanti per qualche giorno consecutivo da diversi anni ed ora il nostro consueto aggiornamento con i dati sui contagi da covid 19 nella regione marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4618 tamponi 2540 nel percorso nuove diagnosi con un rapporto positivi testati pari al 7,9 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 291 di cui 85 in provincia di pesaro e urbino nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 11 decessi di persone contagiate da covid 19 e siamo agli ultimi preparativi per i tamponi nelle scuole superiori della città di pesaro con lo screening che comincerà giovedì su una iniziativa fortemente voluta dal comune di pesaro e dal sindaco matteo ricci che oggi attraverso i social si è rivolto così agli studenti pesaresi ciao ragazzi finalmente siete tornati a scuola al 50 per cento in presenza che già garantisce una certa sicurezza però vogliamo essere ancora più tranquilli per questo da giovedì potrete fare il tampone veloce con tutta la vostra classe per avere maggiore sicurezza nella vostra classe nella vostra famiglia tra i vostri amici è importante aderire se siete minorenni dovete portare il modulo firmato dai vostri genitori e aderite con la vostra classe avremo quattro punti uno al campus scolastico uno al mengaroni per le scuole del centro uno al cecchi e uno all'alberghiero è davvero un'operazione molto importante che vi consentirà finalmente di tornare a scuola insieme ma nella massima sicurezza possibile aderite mi raccomando fate aderire i vostri amici e purtroppo torniamo a parlare della crisi economica che ci ha lasciato in eredità questo 2020 sono allarmanti i dati dal centro per l'impiego di pesaro che registra ad esempio un enorme calo di contratti e un'impennata di disoccupati l'impatto dai primi dati dalle prime estrapolazioni che abbiamo fatto proprio alla fine dell'anno sono molto molto preoccupanti tant'è che il bacino dei disoccupati al centro per l'impiego di pesaro è passato da circa 10.300 iscritti a 11.003 11.004 quindi un migliaio di disoccupati iscritti in più ma quello che preoccupa maggiormente è il calo dei contratti non tanto il numero dei lavori perché ovviamente ogni lavoratore soprattutto nei tempi determinati potrebbe aver attivato più contratti in un anno abbiamo perso più di 4.000 contratti e questa è una situazione ovviamente preoccupata considerando anche il fatto che almeno fino a questo momento fino diciamo almeno fino a marzo sono alla fine di marzo ancora ancora abbiamo il blocco delle dei licenziamenti e ancora molte persone sono possono usufruire della cassa integrazione il target più colpito è quello giovanile e le donne sono quelle che hanno avuto il maggior numero di iscrizioni l'altro dato importante è che il decremento dei contratti è in realtà dovuto essenzialmente ai tempi determinati che non sono stati rinnovati e c'è anche un crollo del lavoro somministrato e quindi questo ovviamente ci fa preoccupare molto soprattutto se per caso non dovesse ripartire la stagione turistica perché la stagione turistica storicamente per presero ha rappresentato lasciatomelo dire mettendole fra virgolette una specie di ammortizzatore sociale nel senso è il settore dove molti disoccupati in qualche modo hanno sempre storicamente trovato un'opportunità lavorativa che ristorava il loro il loro reddito è chiaro che se per caso per i motivi legati al covi della stagione non dovesse ripartire la situazione si farebbe veramente molto molto pesante sia per i dati occupazionali ma probabilmente ci sarà una caduta su tutto il tessuto economico della città e anche dei nostri servizi sociali perché poi è chiaro che ci sono delle famiglie ci potrebbero essere delle conseguenze abbastanza pesanti devo dire che in questi giorni sto notando che il settore alberghiero turistico commerciale non sta con le mani in mano perché incominciano già a cercare personale quindi evidentemente comunque si stanno muovendo nella speranza che poi ci sia in qualche modo una un'apertura ecco siamo rimaniamo fiduciosi perché comunque bisogna anche esprimere ottimismo e speranza lavoro in crisi e inevitabilmente consumi in calo così dopo dieci giorni di saldi i riscontri di entusiasmo dei commercianti del centro storico di pesaro sono piuttosto tiepidi primi dieci giorni di saldi nelle marche ma per i commercianti del centro storico di pesaro si fatica a scorgere i riscontri sperati poca gente e pochi clienti non aiutati da un via alle vendite promozionali coinciso proprio con l'innesco della zona arancione che non ha aiutato l'afflusso nei negozi è un anno un po strano un anno particolare è un anno molto molto difficile quindi più andiamo avanti più le cose si aggravano di più già da dopo lockdown noi l'ottanta per cento dei nostri clienti non li abbiamo visti e purtroppo con i saldi è andata ancora peggio quindi non c'è nessuno la gente ha paura chiudendo diciamo le città non arrivano i nostri clienti che vengono da fuori quelli che ci sono già qui hanno paura di uscire e purtroppo è così stiamo andando sempre peggio onestamente ci aspettavamo di meglio nel senso che i saldi estivi sono andati meglio ma molto probabilmente perché venivamo da un periodo di lockdown e quindi la la gente aveva voglia di uscire e c'è stato molto molto più movimento e gennaio un po al tale l'alte nel senso che anche questa cosa della zona arancione zona gialla la gente magari non ha ben capito ancora come funziona persone che magari i nostri clienti che abbiamo da montecchio da tavuglia ad esempio che vengono comunque da fuori comune non sanno se possono spostarsi noi a volte ci siamo incontrati a metà strada per poter fare le consegne anche a domicilio abbiamo fatto anche questo perché facciamo anche di questo quindi insomma è un po confusionare la situazione non è andata malissimo ma ci aspettavamo sicuramente meglio insomma ci ha aiutato sì molto il senso unico nel mese di dicembre anche perché noi siamo in una zona in una via secondaria non siamo proprio via branca o il corso che sono le vie che i pesaresi diciamo prediligono quando pensano al centro vanno molto spesso lì noi siamo in una via secondaria vicino al conservatorio e il senso unico è una cosa che noi ci ha aiutato molto molte persone ci hanno conosciuto e sono anche ritornate stanno anche ritornando quindi è stata una cosa molto molto positiva certi giorni si lavora e certi giorni no ma si capisce il momento quello che cerchiamo di fare il più possibile movimento sociale quant'altro però il periodo è quello che è quindi tocca contentarci il fatto che anche la zona arancione limita gli spostamenti non è proprio d'aiuto esatto anche dei ragazzi magari da fuori che volevano passare in centro sono sono bloccati quindi lavoriamo solamente in zona con gli interessati della città in centro insomma quest'anno le limitazioni da pandemia nel periodo pre natalizio hanno indotto la regione a posticipare il via ai saldi al 16 gennaio rispetto alla loro abituale collocazione in concomitanza dell'epifania una posticipazione non condivisa da tutti i commercianti purtroppo il nostro cliente abituato al saldo dopo il periodo di natale quest'anno la posticipazione dei saldi non ha portato i risultati dello scorso anno anche perché si è venuto a creare la zona arancione proprio nel weekend dell'inizio dei saldi anche per le associazioni di categoria conf commercio e conf esercenti il prolungamento delle vendite promozionali non ha aiutato una corsa all'acquisto in questa seconda metà di gennaio i saldi sono iniziati il 16 le vendite promozionali sono si sono concluse il 14 io chiedo in questo momento da una persona tanto stupido non sono fino a ieri facevo gli sconti e li continuo a fare oggi non è che ci sia la ressa io speravo noi come associazione speriamo sempre che il saldo sia la soluzione di tutti i problemi in questo momento non credo che quest'anno lo sia perché poi la pandemia sicuramente ha agito come dissuasore abbiamo avuto le vendite promozionali fino al giorno prima dei saldi e per cui non abbiamo non c'è un riscontro vero sul diciamo che siamo in pieno saldo da un mese e mezzo questa parte quindi oggi che sono i ci sono i saldi ufficiali in realtà la maggior parte dei negozi vista la situazione hanno fatto sconti da da tempo quindi siamo non c'è il boom insomma dei dei saldi e a proposito di acquisti il comune di pesero dal lunedì primo febbraio promuove le domande per richiedere la carta famiglia si tratta della tessera che garantisce un sostegno immediato ai cittadini in difficoltà economica completamente gratuita la card consente sconti sull'acquisto di beni o servizi nelle aziende nei negozi nelle associazioni negli enti culturali e presso liberi professionisti che aderiscono all'iniziativa per richiedere la carta è necessario compilare il modulo online che si può trovare sul sito delle comune di pesaro e domani 27 gennaio ricorre il giorno della memoria che ricorda l'abbattimento dei cancelli di auschwitz nel 1945 da parte delle truppe sovietiche mostrando dunque tutti gli orrori dell'olocausto il comune di pesaro domani celebra la ricorrenza trasmettendo alle 11 e 30 un video realizzato dal filmmaker davide lomma che raccoglie il cammino condiviso fatto dalle istituzioni dagli studenti dai loro docenti negli ultimi sei anni e intanto già questa mattina il consiglio regionale ha celebrato ad ancona la memoria della shoah nel segno del ricordo ma anche del lancio e della promozione culturale di un itinerario ebraico marchigiano vediamo il servizio dimenticare mai ricordare sempre parole espresse dal presidente del consiglio regionale dino latini nell'assemblea anconetana che oggi ha celebrato il giorno della memoria rimarcando gli indelebili orrori della shoah in aula sono intervenuti tra gli altri il presidente della comunità ebraica di ancone manuela russi e la direttore dell'ufficio scolastico regionale ugo filisetti memoria ma anche promozione di iniziative storico culturali come la proposta del consigliere giacomo rossi approvata all'unanimità che intende legare in un unico filo conduttore l'itinerario ebraico delle marche in occasione della giornata della memoria abbiamo anche discusso la mia mozione che chiede alla giunta di istituire l'itinerario ebraico marchigiano una mozione che è stata sottoscritta da tutti i capigruppi in consiglio ed è stata votata all'unanimità questa mozione chiede appunto l'istituzione di questo itinerario che vuol mettere insieme e raccogliere in un itinerario turistico tutti quei siti di interesse storico artistico e culturale del mondo ebraico sparsi nella nostra regione per esempio la sinagoga di pesaro di urbino di senigallia il quartiere ebraico di apecchio di monterubiano di camerino ci sono veramente tante testimonianze e questo itinerario può attrarre tutto il flusso turistico interessato a questo tipo di storie questo tipo di beni culturali tra l'altro questa vuole essere anche una proposta del ricordo perché con questo itinerario si andranno anche a scoprire le tante storie di persecuzioni che hanno subito gli ebrei marchigiani nel corso dei secoli quindi oltre che una proposta concreta vuole essere anche una proposta finalizzata alla memoria ed era questo l'ultimo servizio del nostro tg di questa sera prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata alle 21 e 15 un approfondimento su uno spazio enogastronomico della nostra provincia si tratta di delizia di mare fish house gastronomia e ristorantino poi ancora domani vi ricordiamo che torna l'appuntamento in diretta come ogni mercoledì alle 10 con casa rossini il salotto di paolo pagnini con diversi ospiti quelli di domani saranno maurizio radi titolare di fisio radi center tiziano donzelli pittore e ceramista e lo chef del ristorante lo scudiero daniele patti per quanto riguarda la prima serata di domani non perdetevi lo speciale sul giorno della memoria sui nostri schermi alle 21 e 15 l'informazione su rossini tv torna puntuale domattina come sempre con la rassegna stampa dei quotidiani locali buongiorno rossini tutti i giorni da lunedì al sabato in diretta alle 7 e 20 ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale da tutta la redazione il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di rossini tv rifiuto rifiuto Grazie.